Festa provinciale e regionale delle Acri, ospiti anche quest'anno del circolo Acri di Ponticino. Abbiamo Don Salvatore che oltre ad essere il parroco che ci ospita, la parrocchia di Ponticino è anche presidente della squadra di calcio, il Cherigma. E allora, bene, queste quattro giornate saranno dedicate a tanti temi. Cosa pensa Don Salvatore? Innanzitutto esprimo la gioia rinnovata di ospitare questo evento così importante. Leggo dal programma che siamo alla diciannovesima edizione e quindi ci prepariamo già, si sente profumo di festa per l'anno prossimo. Però rimaniamo agli eventi di quest'anno e c'è sicuramente la gioia di accogliere tutti gli ospiti di valore che animeranno questa edizione e mi permetto di sottolineare, sarà la prima volta in cui il nostro Vescovo Andrea Migliavacca presiederà la messa di sabato, ricordiamolo, alle ore 18, di sabato 13 luglio alle ore 18, a cui poi seguirà un bel dibattito. Ci sono diversi ospiti, oltre al nostro Vescovo anche Ernesto Preziosi e poi il Matteo Ferrari di Camaldoli, il neoeletto, il Nepi e tanti altri ospiti che animeranno il dibattito. E tutto questo per confermare e riaffermare una bella tradizione, una bella alleanza che c'è tra le acli nella sezione della provincia di Arezzo e questa fetta di territorio aretino, la parrocchia di Ponticino, nell'ospitare questo evento che è anche, diciamolo, in una costola, in una linea collaterale, anche un momento di festa di popolo con gli stand neogastronomici, con i momenti di animazione, di ballo, di musica, di danza e quindi uniamo lo slancio dell'impegno politico e dei temi sociali, l'afflato della fede, della preghiera e la festa di popolo e questa è la formula perfetta, ormai consolidata, che ci permette di festeggiare qui a Ponticino ogni anno la festa delle acli, che è festa provinciale e regionale, quindi è veramente un onore per me come parroco di questa parrocchia ma per tutta la comunità, io ovviamente mi esprimo a nome di tutta la comunità ospitare questo evento così importante. E quindi ringrazio te Luigi e tutto il circolo ovviamente, grazie ai volontari di cucina, ai volontari degli impianti, di chi ha preso i tavoli, le sedie per allestire la zona cena e quindi tutto quello che gira di volontariato attorno a questa festa, quindi grazie al circolo acri della sezione di Ponticino.